Tutti conosciamo Liliana Cavani come una delle registe italiane di cinema di maggior respiro internazionale. Vi dico alcuni titoli come Portiere di Notte, Cannibali, Interno Berlinese, stiamo parlando di titoli che sono annoverati ormai fra i grandi film della cinematografia europea. Ma pochi sanno invece che Liliana Cavani è nata in qualche modo in Rai, nella di Ettore Bernabei, dove fra il 1961 e il 1966 ha creato delle inchieste, dei documentari che in qualche modo sono l'origine della Liliana Cavani che verrà, quella appunto grande regista cinematografica. Ve li proponiamo in un percorso di dieci puntate, dagli esordi fino al Francesco Rassisi del 1966, quel Francesco che era nato come un documentario e in realtà ti verrà il suo primo film. Buona visione. Su tutti i fronti d'Europa le armi tacciano. benvenuta a Liliana Cavani. Allora siamo adesso nel 1965 e siamo a Philippe 10 processo a Vichy. Allora è la ricostruzione del processo per collaborazionismo che fu intentato nel 1945 a Parigi al generale Philippe 10. Allora Philippe 10 per chi non ne conoscesse la storia sono due cose insieme, cioè il grande eroe di Verdun, della prima guerra mondiale, della grande guerra, ma anche il presidente della Francia occupata che viene a patti fra il 40 e il 44 con i nazisti. Fra l'altro è una cosa che fa ancora discutere in Francia perché il presidente Macron ha celebrato Petain 2018-1918 per il centenario fra i generali, fra i marescialli di Francia della vittoria e la comunità ebraica, una serie di pezzi della società, hanno protestato. Hanno protestato perché ne ha parlato come in parte anche un eroe francese. Allora, anche questo è un capitolo controverso della storia europea. Ecco, anche questo, anche Petain, anche questa storia l'ha conosciuta, stiamo parlando di un romanzo di conoscenza, attraverso il lavoro televisivo commissionato nella RAI. Anche questo? Certo, perché ho dovuto studiare, capire, cercare di... Non era una storia molto conosciuta in Italia questa? No, non è una cosa molto conosciuta, però hanno fatto questo processo nel dopoguerra per stabilire questo... c'era chi voleva condannarlo, perché praticamente hanno... c'è stata la collaborazione con i nazisti che occupavano i due terzi della Francia. E quindi non... e lì ho intervistato delle varie persone. Ho intervistato per dire il capo della comunità ebraica, il rabbino... Beh, ma anche i protagonisti, Renault, Vengan, il difensore, Isorni, il difensore di Petain. Beh, Isorni, il difensore, è quasi un personaggio comico, perché è proprio la France, no? Che parla come se fosse davanti a un pulpito, fosse su un pulpito di non so che. C'è un avvocato di altri tempi, diciamo. Sì, gestendo con questa... con questo accento solenne, così, eccetera. Però l'ha perso il processo. E questa è stata la vittoria di questo. Perché Petain alla fine è stato mandato. Petain è stato mandato nell'isola... non mi ricordo più, è un'isola dell'oceano, dove c'era una prigione, eccetera, è stato lì... Ricordiamolo, era molto anziano. Uh, era molto anziano, guarda, che ha intervistato il generale Vengan... No, mi ricordo ancora, adesso così, ero quasi sulle sue ginocchia, perché... per fargli capire le domande... Non sentiva più bene. Era l'ultrano antenne, non sentiva niente, eccetera... Tra l'altro è morto, uno scoop quello, perché è morto poche settimane dopo. Sì, ma... Vengan, tra l'altro, ricordiamo i telespettatori, è quello sconfitto dai nazisti, era il capo di Stato Maggiore che ha subito proprio... Comunque lui non ha ceduto, eccetera, è rimasto... Per loro i nazisti erano nemici. Ecco, la collaborazione era... Non era da fare, quindi lui sta fuori. Mi viene in mente che il telespettatore italiano, davanti a questa storia, al processo Petain, si trova di fronte a qualcosa di nuovo. Perché pensiamo all'Italia. In fondo, in Italia sì, c'era stata la fucilazione di Mussolini, dei gerarchi esposti in Piazza Loretto, ma veri processi alla Repubblica Sociale non c'erano stati. Quindi, secondo lei, il telespettatore, nel vedere questa storia, non ha fatto dei paragoni con la nostra di storia? Ma io credo che comunque non si sono visti gli esiti di paragone, perché per quello che ho potuto capire non sono stati fatti processi profondi. Capisco che c'era la necessità di pacificare il paese, questo è stato importante, De Gasperi ha fatto la sua parte, ha togliato pure la sua. Però c'era il problema, rimaneva, rimaneva nell'aria, rimaneva nel sangue e quindi un pochino di chiarimento di giustizia andava fatto. C'era chi aveva torto e c'era chi aveva ragione. Comunque, non si fanno le guerre così a caso. E quindi sono rimaste le tracce. Se non si è affrontata la storia contemporanea e la televisione, malgrado la volontà di Bernabè, che lo si deve veramente questo, e del gruppo che lo seguiva, non si faceva. C'era la politica quotidiana, il comunismo e dei democristiani. Quindi uno che cresceva pensava che i democristiani, secondo il modello così della stampa contrario, i comunisti, cioè, diventava un'altra storia. Insomma, questo è il quadro in cui viene visto in Italia questo processo a per te, per la prima volta, una storia per la prima volta raccontata al telespettatore. Allora, stiamo parlando del giugno del 1965, e della rubrica primo piano del secondo canale. Cominciamo a vedere un primo estratto e tutto quello che abbiamo affrontato fin qui, secondo me, sarà letto con attenzione dal professor De Luna dopo. Prima di aprire il dibattito, vengo a fare una dichiarazione. A inizio qui, uno dei più grandi processi della storia. Ogni passione deve arrestarsi fuori dell'aula. Qui dentro, una sola passione è lecita, quella della verità. Dichiaro aperto il dibattito. L'accusa è rappresentata da André Morné. La difesa è sostenuta dall'avvocato Fernand Pellin. Al suo fianco è un giovane avvocato, Jacques Isorni, che diventerà di fatto il principale difensore del maresciallo. Al banco dei testimoni si alterneranno le figure più importanti della politica francese di quegli anni. Il procuratore generale Morné elenca i capi di accusa contro Philippe Petain. Henri Philippe Petain, età 89 anni, incolpato di aver attentato alla sicurezza interna dello Stato, di aver collaborato col nemico. Ecco in breve i capi di accusa. Ha partecipato negli anni in cui era ambasciatore a Madrid ad una cospirazione politica che mirava a impadronirsi del potere ed instaurare un regime di tipo fascista. E da tale scopo, una volta giunto al governo, Petain ha voluto e concluso l'armistizio con la Germania. Petain ha promulgato leggi contro le istituzioni democratiche per instaurare le basi di un regime totalitario sul modello nazifascista. Petain ha collaborato col nemico. Il maresciallo Petain chiede la parola. È il momento della sua autodifesa. Fu l'Assemblea nazionale a conferirmi il potere il 10 giugno 1940. Cioè, fui il popolo francese. A lui mi rivolgo, non a questa corte che così come è costituita non rappresenta il popolo francese. Ho dedicato la mia vita alla Francia ed oggi, a quasi 90 anni, sono gettato in carcere. Philippe Petain era nato nel 1856 da una famiglia di contadini della Lorena. Entrò a 20 anni all'Accademia di Saint-Syr. Fu la guerra mondiale a rivelare le sue qualità militari. La difesa di Verdun creò la sua fama di eroe e salvatore della patria ed egli venne considerato uno dei grandi artefici della vittoria francese sui tedeschi. Per i suoi meriti gli venne conferito nel 1917 il bastone di maresciallo. La vittoria di Verdun divenne leggenda e leggendario l'eroe di Verdun. Nel 1934 è chiamato al Ministero della Guerra. Nel 1939 è nominato ambasciatore in Spagna. Nel maggio 1940, al momento della disfatta militare, il presidente del Consiglio, Paul Reynaud, lo richiama da Madrid per affidargli la carica di ministro di Stato e vicepresidente del Consiglio. Fui pregato e venghi. Così ereditai una catastrofe di cui non ero responsabile. I veri responsabili si ripararono dietro di me. In pieno accordo con i capi militari, chiesi l'armistizio. Era un passo necessario e salutare. L'armistizio salvò la Francia dal peggio. Il popolo francese accusa Philippe Petain in primo luogo di aver fondato la propria politica sulla disfatta della Francia, avendo voluto e concluso l'armistizio. Petain sostiene in pratica di avere da un lato fatto buon viso all'occupante tedesco per cedere il meno possibile, dall'altro di aver tenuto contatti con gli alleati e averne favorito la vittoria. È la tesi del doppio gioco che sarà la base della difesa. Si è veramente trattato di doppio gioco. Come hanno potuto i difensori sostenere questa tesi? Venne infatti confutata. Il 10 maggio 1940 era iniziata la cosiddetta guerra delle sei settimane che portò i tedeschi attraverso Olanda e Belgio sconfitti a marciare sulle strade di Parigi. Era il 14 giugno 1940. Pochi giorni prima il governo francese era stato costretto a lasciare la capitale e a trasferirsi provvisoriamente a Bordeaux. Era presidente del Consiglio Paul Renaud che circa un mese prima aveva chiamato Petain alla vicepresidenza del Consiglio e il generale Maxime Végon alla testa dello Stato Maggiore. Essi, davanti al disastro militare della Francia non videro altra soluzione che la firma di un armistizio con la Germania. Végon, una delle figure chiave nella vicenda di Petain è scomparso recentemente. Poche settimane prima ci aveva rilasciato alcune dichiarazioni. Comandavo l'esercito francese toccava a me per la mia carica dover chiedere l'armistizio la situazione era così catastrofica che era indispensabile chiedere l'armistizio ma mi sono trovato solo di fronte a molti membri del governo che non volevano che si chiedesse l'armistizio ma Petain che aveva una visione giusta delle cose mi ha appoggiato e ho ottenuto che il governo lo accettasse. Credo che il marescello Petain come del resto il generale Végan ritenesse che la guerra fosse definitivamente perduta. Ignorarono o non vollero vedere che il conflitto diventava mondiale. Seguivano delle idee arretrate non valutando l'apporto colossale degli Stati Uniti ma è così. Inoltre credo che Petain abbia cercato di soddisfare un'ambizione prettamente personale. La verità è che Paul Reinault ha chiamato al potere Petain e me perché non ebbe la forza di reggere da solo alle proprie responsabilità e fu ben contento di aver trovato noi per scaricarsi. Il signor Reinault sperava e il governo sperava con lui che si desse a un militare la responsabilità dell'armistizio e che dopo di questo la formazione di prima tornasse al governo. Io vi dico che mai un popolo si è ingannato nel dare la propria fiducia ad un uomo come il popolo francese su Petain e che mai un uomo ha fatto tanto male ad un popolo come il maresciallo Petain al popolo francese. Quello che dice il presidente Paul Reinault non è la verità. La verità eccola qui. La Francia le sue forze armate sono state sconfitte nelle condizioni che lei sa. Credo che il generale Vega non glielo possa confermare. C'è stato del panico da parte degli uomini del governo francese. una specie di sbigottimento di paura o forse solo di inquietudine. Fu allora che il governo Reinault che rappresentava la Francia fece appello a due vegliardi per nascondersi dietro di loro e per lasciare a questi due vegliardi la responsabilità di ciò che la Francia di allora avrebbe dovuto decidere in quelle circostanze. Allora fecero appello al generale Vega che si trovava in Siria a comandare la guarnigione francese e fecero appello disperati al maresciallo Pétain che aveva quasi 85 anni ed era ambasciatore di Francia in Ispagna. Si rivolsero disperati a lui perché non sapevano più che cosa fare. Speravano che lui con la sua sola presenza potesse dare di nuovo alla Francia ciò di cui aveva bisogno essenzialmente il coraggio ma la sua potenza militare no non poteva ridargliela e quando il maresciallo Pétain lasciò Madrid e si recò a salutare il generale Franco presso il quale era ambasciatore il generale Franco gli disse non torni in Francia signor maresciallo perché le si chiederà in Francia di sopportare il peso di una sconfitta di cui lei non è responsabile la sua gloria quella che lei ha conquistato a Verdun sarà offuscata da ciò che le chiederanno di fare il maresciallo Pétain rispose questo l'ho saputo dal generale Franco stesso il maresciallo Pétain rispose ho 85 anni e non ho più che la mia età da offrire alla patria e non posso tirarmi indietro ed egli tornò in Francia per assumere la responsabilità degli errori altrui e gli altri ebbero paura si nascosero dietro di lui quando l'armistizio apparve assolutamente inevitabile io feci presente che secondo me non si doveva chiedere l'armistizio perché chiedere l'armistizio era come spezzare le reni alla resistenza e che non l'avrei accettato in nessun modo e Churchill fece avanzare una richiesta dal suo ambasciatore presso il presidente del senato che aveva all'epoca una grande influenza sul presidente della repubblica il signor Lebrun perché restasse al mio posto e fossi autorizzato a costituire un governo di resistenza quella non era una comune guerra tra due nazioni ma prima di tutto un conflitto mondiale fra due ideologie la dittatura contro la civiltà democratica Renault e De Gaulle erano convinti che tale conflitto era appena incominciato che avrebbe presto coinvolto anche gli Stati Uniti e che la Francia avrebbe potuto continuare la lotta nei suoi territori dell'Africa settentrionale Petain e De Gaulle viceversa credevano che la battaglia fosse ormai alla fine e che alla Francia non restasse altro da fare che venire a patti con il vincitore questa tesi era sostenuta anche da gruppi politici reazionari potenzialmente fascisti che non avevano nascosto anni prima le loro simpatie per Hitler e Mussolini e che ora premevano affinché la Francia si allineasse con la Germania davanti al disastro militare che si faceva più grave di ora in ora la tesi dell'armistizio convinse anche parte dell'opinione pubblica e finì per prevalere Paul Renaud presentò allora le proprie dimissioni alla presidenza del consiglio e tale carica venne affidata a Petain era il 17 giugno 1940 la sera stessa Petain annunciò le proprie decisioni attraverso la radio dopo la luce e non l'honneur le moyen di mettere un termo le hostilità croyez-moi il momento non è venuto di voi rifugiai in l'amertura o di sombrer in il desespoir vous n'êtes ni venduti ni trahi ni abandonnati che tutti i franzai se gruppi autour del governo che io preside durante i giorni durante i duri effrazi 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 le renguasso non obendio qu'à loro foi il generale de Gaulle fuggì a Londra e alla radio incitò i francesi a continuare la lotta e a mettersi in contatto con lui la Francia disse ha perduto una battaglia non ha perduto la guerra tale appello fu l'origine del movimento per la Francia libera la prospettiva di un accordo con il nazismo determinò negli antifascisti francesi la volontà di un'opposizione che si esprimerà nel movimento della resistenza il 24 giugno 1940 l'armistizio venne dunque firmato vennero consegnati all'occupante Parigi le province del nord tutte le zone essenziali agricole e minerarie i porti atlantici aviazione e flotta dovevano essere smobilitate sotto il controllo tedesco anche la zona cosiddetta libera lasciata alla Francia restava però sotto l'autorità militare tedesca il governo e le camere lasciarono Bordeaux il 28 giugno 1940 e si trasferirono a Vichy qui Petain cercò di dare al governo che aveva firmato l'armistizio con la Germania un fondamento giuridico l'atto di nascita del regime di Vichy è una legge con la quale viene abolita di fatto l'istituzione repubblicana Petain annulla la legge sull'elezione del presidente della repubblica e assume le funzioni di capo dello stato Philippe Petain dopo essere arrivato al potere soppresse le istituzioni repubblicane diede al regime caratteristiche simili ai regimi fascista e nazista e non esitò a chiamarlo la nostra rivoluzione nazionale Petain ha promulgato un atto che metteva fine al potere del presidente della repubblica e che gli dava pieni poteri e ha poi con altri atti costituzionali successivi stabilita la sua successione ha sospeso i lavori del Parlamento dell'Assemblea Nazionale e del Senato ha emesso un insieme di disposizioni che era logico aspettarsi poiché era stato annunciato che ci si sarebbe allineati sui regimi totalitari dell'Italia e della Germania nazista se è vero che Petain voleva tenere testa al nazismo perché non ha almeno difeso le istituzioni democratiche e repubblicane di fronte alla politica di Petain che si allineava con sempre maggiore evidenza a quella dei nazisti come reagirono i francesi il prestigio di Petain era tale che in un primo momento buona parte della popolazione gli mantenne la propria fiducia in seguito accaddero fatti ed episodi che demolirono questa fiducia e decisero molti francesi ad unirsi al movimento clandestino di liberazione il più clamoroso di questi episodi fu l'incontro di Petain con Hitler a Montoir il 22 ottobre 1940 la Francia ritrovera a maresciallo di aver attentato profondamente alla dignità del paese accordandosi con Hitler a Montoir dove ebbe inizio ufficialmente la collaborazione tra il vinto e il vincitore che cosa fu Montoir? fu un episodio che sancì la collaborazione e il vassallaggio del governo di Vichy al terzo rail fu una stretta di mano ampiamente pubblicizzata che determinò nell'animo di molti francesi un vero e proprio shock da quel momento da quel gesto si imponeva il problema della scelta e fu proprio Montoir per il significato che assunse uno dei principali capi d'accusa mossi a Petain per i difensori sostenitori del doppio gioco di Petain Montoir era invece l'espressione massima della abilità diplomatica del maresciallo fu il maresciallo che volle personalmente incontrare Hitler e questo rovescia tutti i dati che si avevano in merito quando si credeva che Hitler aveva voluto vedere Petain per schiacciare la Francia più di quanto non avesse già fatto nel 40 al momento dell'armistizio al contrario è stato il maresciallo che ha tentato di allentare di alleviare la morsa tedesca sulla Francia e ha fatto questo mentre negoziava nello stesso tempo con gli inglesi l'operazione è stato un atto diplomatico di grande abilità una vittoria diplomatica paragonabile alla vittoria militare di Verdun a Montuart Petain dava a Hitler l'impressione solo l'impressione di una politica di collaborazione mentre nell'ufficio di Churchill lo stesso giorno e nella stessa ora credo che non ci sia bisogno di commenti l'emissario del maresciallo Petain Rouget trattava con gli inglesi ho visto Churchill il giorno prima che Petain incontrasse Hitler a Montuart il 23 ottobre devo premettere che il ministro inglese si dimostrò allora molto comprensivo l'indomani nella stampa britannica c'erano dei grossi titoli che prendevano tutte le prime pagine sul trattato di pace che sarebbe stato concluso e firmato tra Petain e Hitler era una notizia proveniente da Berna e che era stata spedita da un corrispondente di stampa americano leggendone il testo capì subito che era falso ma era certo che sarei stato chiamato d'urgenza dal primo ministro cosa che avvenne effettivamente un ufficiale di polizia venne a prendermi e così mi trovai di fronte ad un Churchill che era in preda ad un grande furore e che mi disse che avrebbe mandato la sua aviazione a bombardare Vichy e che avrebbe rivolto un appello al popolo francese dicharando che avrebbe perseguitato il suo governo traditore ovunque si fosse spostato fu allora che lo guardai sorridendo ed egli mi chiese perché sorridevo io gli dissi perché non avrei mai creduto che un primo ministro britannico potesse farsi ingannare dalla propaganda del dottor Goebbels mi tenga dunque qui come ostaggio se la notizia non sarà smentita entro 48 ore e la sera stessa naturalmente ci fu la smentita fu smentita la notizia circa il trattato di pace ma un accordo preciso fra Hitler e Petain c'era stato il maresciallo infatti accettò di mettere per iscritto un patto che diceva le potenze dell'asse e la Francia hanno uguali interesse a vedere condotta a termine al più presto la sconfitta dell'Inghilterra di conseguenza il governo francese appoggia le misure che a questo fine le potenze dell'asse intenderanno prendere è chiaro perciò che l'operazione Rougier aveva ben poco significato per Petain come finì per averne assai poco per Churchill si può parlare allora di doppio gioco mi attengo ai testi dopo Montuacci fu un cartello che noi della resistenza abbiamo visto sui muri di Parigi era un manifesto che non lasciava luogo a dubbi circa le intenzioni del governo di Bici vi appariva l'effigie di Petain che chiaramente rivolgeva un forte appello ai francesi perché si indirizzassero nella via della collaborazione da allora gli uomini hanno detto doppio gioco ma temo che si dovesse dire triplo gioco gioco di collaborare gioco di resistere alla meglio ai tedeschi il terzo gioco era di far credere che si facesse il doppio gioco e credo che questo sia l'aspetto essenziale della questione la tesi del doppio gioco andò via via perdendo terreno nel corso delle udienze troppe testimonianze e troppi documenti attestavano il collaborazionismo nel governo di Bici troppo noti erano i manifesti con i quali il governo di Bici invitava i francesi alla collaborazione nelle giraziali il lavoro obbligatorio e i tribunali speciali e anche questo lavoro è particolarmente innovativo dal punto di vista stereografico lo ripeto spesso ma è esattamente la cifra di questi programmi di queste iniziative e come anche ho già usato questo termine dello scongelamento della memoria è come se si rimettesse un moto un meccanismo di riflessione di ripensamento di alcuni nodi storici che gravavano sulla nostra storia ma anche sulla storia dell'Europa guardate che il tema del collaborazionismo con i nazisti non era stato rimosso solo in Italia in Francia c'era stata una sorta di ossessione i francesi avevano talmente il pudore di parlare di una guerra civile tra chi era favorevole ai nazisti e chi era contro i nazisti che avevano coniato l'espressione di guerra franco-francese e ma da questo punto di vista il paradigma interpretativo più forte era quello proposto da De Gaulle Vichy e Petain non appartenevano alla storia della Francia erano un'escrescenza da rimuovere e da cancellare e guardate che bisogna aspettare il 1995 quando Chirac presidente della Repubblica Francese disse invece affermò Sanchi che Vichy facevano parte della storia della Francia ed era una storia da non cancellare ma su cui riflettere su cui ripensare su cui capire qual era la vera identità dei francesi da questo punto di vista la conseguenza stereografica del programma è proprio in questa direzione si capisce che Petain appartiene alla storia della Francia così come appartengono alla storia della Francia i 240.000 deportati francesi in Germania i 30.000 fucilati da Petain la resistenza francese tutto un groviglio di contraddizioni che non poteva essere sciolto col macete con l'ascia ma che andava esaminata con grande lucidità e grande consapevolezza cosa che nel programma della Cavani noi troviamo integralmente la Francia non perdona al governo di Petain l'asservimento al Reich la Francia non gli perdona di aver messo fuori legge intere categorie di francesi perseguitandoli la Francia non gli perdona di aver consegnato al Boia le vittime che il Reich pretendeva la Francia non perdona al governo di Petain di aver contribuito al funzionamento dell'apparato militare tedesco scavando nelle reazioni dell'opinione pubblica di allora ho trovato un grande critico televisivo Ugo Bussolan sulla stampa allora lui dice che la giovane e valorosa regista che sarebbe questa Liliana Cavani poco più che trentenne non avendo che poche sequenze del processo di Parigi e qualche immagine di Lavalle e delle sedute di Vichy era stata costretta a puntare moltissimo sulle interviste allora però qui ci sono dei veri e propri scoop perché c'è il generale Weigand responsabile della disfatta francese e morto poco tempo dopo Paul Reynaud che era stato il primo ministro che voleva invece continuare la guerra ai tedeschi e lei si è riuscita a intervistarselo poi c'era soprattutto questo avvocato Jacques Zorni il difensore di Petain come dire un grande del foro parigino insomma ecco dice Buzzolanche avendo lei poche cose in sostanza ha fatto una ricostruzione lucida serrata incalzante e ricca di tensione drammatica credo che il telespettatore se ne sia accorto c'è anche un gran lavoro di montaggio dentro questo programma è un po' insolito rispetto a quel che abbiamo visto fino adesso io ho in mente dei nomi che ho visto nei credits per esempio Franco Attenni che è stato uno dei suoi collaboratori ma anche Domenico Gorgolini si ha fatto poi Francesco e poi c'è il tema del doppiaggio perché queste interviste erano doppiate fra l'altro un grande come Achille Campanile sull'Espresso disse ecco la Cavani che fa del teatro allora ci racconti un po' anche come dire del linguaggio di questo programma beh proprio l'ha detto bene c'era poco materiale sul quale lavorare e quindi ci voleva una grande chiarezza perché la storia francese di quel momento non la sapeva cioè il pubblico salvo gli specialisti non la sapevano lo sforzo è stato di far vedere la retorica dell'avvocato di Petain Isorni che sembrava che recitasse a teatro piuttosto che in tribunale che non è riuscita a persuadere però i giudici i giudici e la e le dichiarazioni di quegli altri che c'erano il generale Vegard Renault questi qua e che erano necessarie cioè queste poche interviste però erano necessarie a dare un quadro che era molto complesso perché Vichy è stata una è stata una grande macchia per la Francia una grande macchia e quindi non non è stata sepolta subito ci fu quel bel film di di Louis Mal ecco bellissimo e lì rimprovera ai francesi di aver fatto i collaborazioni ma molti anni dopo questo suo documentario e beh si vede che poteva dirlo però si vede che poteva fare il film e dire e accusare praticamente gran parte dei francesi di avere anziché aiutato gli ebrei di averli denunciati e quindi questo è molto cioè per la Francia era un tema scandaloso era un tema scandaloso allora veniamo al secondo estratto da questo Philippe Tain processo a Vichy il professor De Luna però ci aiuterà di più stavolta perché ci deve spiegare una cosa che lui ci ha insegnato in questi anni cioè le interviste le interviste fatte come dire per la bisogna no? perché appunto diceva c'è poco girato devo fare delle interviste in realtà alla fine tanti anni dopo queste interviste sono un vero e proprio documento storico vediamo la famosa rivoluzione nazionale di Petain mostrò presto la sua vera faccia furono aboliti i sindacati fu sospesa l'attività dei partiti fu soppressa l'incolumità parlamentare diventò obbligatorio per tutti gli uomini di stato il giuramento a Petain furono emanate leggi anti-ebraiche simili in tutto a quelle naziste fu abolita la libertà di stampa con l'ordine che non dovesse mai apparire un articolo che potesse ostacolare la politica di collaborazione franco-tedesca venne costituito il servizio d'ordine legionario la milizia di Vichy che aveva il ruolo della SS nazista la Gestapo al principio conosceva poco la Francia non si era ambientata ma grazie alla polizia di Vichy è penetrata nel nostro ambiente si è impossessata dei dossier segreti degli uomini della resistenza già individuati da Vichy e in pratica per i nazisti il lavoro era fatto per me è da quel particolare momento che la Francia ha cominciato ad essere profondamente divisa e ha raggiunto un grado di divisione che ancora non è colmato al giorno d'oggi e provoca ancora porta ancora delle conseguenze molto dolorose dei francesi sono stati arrestati dei francesi sono stati internati dei francesi sono stati deportati da principio le prime misure razziali erano delle leggi amministrative ma poco a poco queste misure si sono trasformate in leggi di sangue con le conseguenze che conosciamo i difensori tentarono ancora una carta sostennero che Petain facendo fronte in qualche maniera alle richieste tedesche aveva evitato il peggio aveva cioè evitato alla Francia la sorte toccata per esempio alla Polonia si vuole dare ad intendere che senza l'armistizio senza il maresciallo la situazione francese sarebbe stata peggiore guardiamo le cifre in Francia 150.000 ostaggi sono stati fucilati 750.000 operai inviati in Germania 110.000 sono i deportati politici 120.000 i deportati razziali si possono scegliere molti esempi di ciò che Bichy poteva evitare e non ha voluto evitare per esempio nella deportazione dei bambini ebrei la Gestapo di Berlino aveva stabilito un limite di età al di sotto del quale non dovevano essere effettuate deportazioni vale a dire i bambini di meno di sei anni non dovevano essere deportati ed ecco la prefettura di polizia prima e la Val personalmente in seguito esprimere il desiderio alla Gestapo che i bambini più piccoli fossero anche loro deportati e si accampava da parte loro la ragione che non si volevano provocare scene strazianti separando i figli dai genitori i genitori sarebbero stati deportati i figli abbandonati era il pretesto ufficiale lo studio dei documenti dimostra che l'autentico motivo era invece il desiderio di non impegnare l'assistenza pubblica in un compito difficoltoso bisognava ricoverare decine di migliaia di bambini è per questo che che la prefettura la prefettura di polizia e la Val per la zona non occupata espressero il loro desiderio che la Gestapo di Berlino accolse e i bambini vennero deportati senza limite di età il primo gennaio del 44 Petain aveva consegnato tutti i poteri di polizia in Francia a Joseph Darnan era un ex scaricatore di Nizza che aveva sempre perseguitato le formazioni partigiane aveva creato la milizia che ricalcava l'organizzazione dell'SA in Germania e collaborava talmente con i nazisti da essere nominato SS onorario già il 20 gennaio Darnan aveva ottenuto che si votasse una legge che si promulgasse la creazione delle corti marziali le corti marziali erano dei tribunali di un genere molto particolare ed erano composte da tre giudici che fatto straordinario erano dei giudici anonimi essi non giudicavano nei tribunali ma andavano a giudicare in segreto nell'interno delle carceri francesi questi giudici che erano in genere della milizia avevano dei poteri molto estesi e invariabilmente condannavano a morte e la condanna era eseguita immediatamente io personalmente ho potuto ascoltarli durante i loro processi questa legislazione fu imposta dall'occupazione tedesca e perciò subita ogni repressione fu accettata solo con la speranza che un sacrificio provvisorio permettesse di salvare delle vite umane sotto l'apparenza di collaborazione espressa con atti che non poteva non fare Petain poteva giocare quei risultati che hanno permesso alla Francia di limitare i danni dell'occupazione nazista e salvare la dignità del paese con una resistenza passiva il maresciallo Petain viene accusato inoltre di aver fatto parte del complotto della Cagoule la Cagoule era un gruppo politico di estrazione reazionaria che non aveva nascosto le sue simpatie per i regimi totalitari e che nel 1936 aveva progettato di impadronirsi del potere per instaurare un regime di tipo fascista le figure di primo piano del complotto erano l'ammiraglio Darlan Raffaella Libert Marcel De Ha Joseph Darnot Pierre Laval l'appartenenza di Petain al complotto non fu convalidata al processo da prove documentate ma l'accusa fece rimarcare che gli uomini della Cagoule erano gli stessi che Petain aveva chiamato al governo di Vichy tra costoro emerse in particolare la figura di Pierre Laval che aveva la carica di vicepresidente del consiglio la Francia non perdona al maresciallo Petain di aver tenuto al suo fianco Laval l'uomo che ha pubblicamente augurato la vittoria della Germania Pierre Laval fece parte del governo di Vichy costituito il 12 luglio 1940 come vicepresidente del consiglio in più occasioni aveva espresso il proprio disprezzo per la democrazia e manifestato la sua simpatia per i regimi totalitari egli sperava di allineare la Francia con l'Italia e la Germania e a tale scopo cercava di forzare il più possibile la stretta collaborazione di Vichy con il Reich Petain lo stimava come uomo politico ma lo considerava al tempo stesso un possibile rivale sospettando un complotto ai propri danni il 13 dicembre 1940 lo estromise dal governo nell'aprile 1942 su richiesta di Hitler il maresciallo si vide costretto a richiamare Laval al governo per affidargli la carica di presidente del consiglio i rapporti fra i due uomini politici e le reciproche responsabilità furono dibattuti a lungo quando Laval si presentò al processo era già in stato di arresto anche per lui si stava preparando il processo per collaborazionismo che si sarebbe concluso nell'ottobre con la sua condanna a morte e quindi con la fucilazione quello che comparve al processo era perciò un uomo ormai sull'orlo del precipizio e gli sperava di poter fare del processo Petain la prima tribuna della propria autodifesa ma si trovò contro lo stesso Petain che aveva tutto l'interesse ad aggravare la posizione di Laval a proprio discarico immagini qual era la situazione del maresciallo Petain aveva ormai quasi 90 anni già condannato stava per essere condannato era quasi sull'orlo del precipizio Pier Laval era più o meno nella stessa situazione di Petain e perciò credeva che questa situazione identica creasse fra loro due che erano nell'abisso una specie di solidarietà subito dopo aver finito di testimoniare Pier Laval uscendo dall'aula e passando accanto al maresciallo Petain si inchinò davanti a lui lo salutò e gli disse una parola d'affetto ma poiché il maresciallo Petain voleva che la corte capisse bene che la politica di Laval era stata una politica necessaria ma non la sua propria politica non gli rispose affatto e quando Pier Laval si inchinò dinnanzi a lui e gli fece finta di non vederlo Petain col suo silenzio ha voluto dare la spiegazione di tutta la sua politica cioè non rispondo a Pier Laval che si inchina davanti a me perché se Laval è stato necessario lo è stato per ottenere altre cose oltre quelle che Laval stesso voleva e che io invece desideravo io sono convinto perché è incontestabile che non si chiede consiglio ogni giorno e non si lavora parecchie volte al giorno con un uomo che indiscutibilmente è di grande intelligenza di grande esperienza e di grande abilità qual era Pier Laval senza subirne in certi momenti l'influenza e a mio parere questa influenza era deplorevole i difensori di Petain e Chiaro sostenevano che Laval era stato una specie di genio malefico del maresciallo allora si alzò uno dei giurati che fece una domanda al teste ogni volta che è stato domandato ad un testimone se Petain sia colpevole di questa o quella cosa è sempre stato risposto che la colpa è di Pier Laval il cattivo genio del maresciallo ebbene noi giurati vorremmo sapere dal momento che Laval è qui presente se gli accetta tutto ciò che i difensori di Petain scaricano sopra di lui se è vero che qui in questa aula si sostiene che io sono stato il genio malefico di Petain allora io vi dico che non accetto questa imputazione non l'accetto in nessuna maniera la difesa sostiene che fu lei a spingere il maresciallo ad incontrarsi con Hitler a Montoir mi sono limitato ad informare Petain che Hitler desiderava incontrarlo Petain era libero di rispondere negativamente non lo fece il 22 giugno 1942 lei Pierre Laval lesse alla radio la famosa frase auguro la vittoria alla Germania prima di leggere quel messaggio alla radio lo sottopusi a Petain se tale frase lo avesse ferito l'avrai tolta il tentativo dei difensori di riversare su Laval le responsabilità politiche di Petain non ebbe successo così come non aveva retto la tesi del presunto doppio gioco del maresciallo tesi che non convince mai né i giudici nei giurati siamo alle ultime fasi del processo il procuratore generale André Mornet tiene la requisitoria finale contro Petain parlando sei ore di seguito per quattro anni la Francia è stata ingannata col peggiore equivoco da un uomo che servendosi della sua popolarità ha fatto da maschera al tradimento Petain ebbe la vanità del potere per il potere e per esso disonorò il proprio paese non senza emozione ma in piena coscienza domando all'alta corte di giustizia di pronunciare contro Philippe Petain la condanna a morte non riesco a immaginare lo spettacolo del vegliardo più illustre di Francia legato alla colonna del martirio magistrati ascoltate il mio appello voi non giudicate che un uomo ma voi portate nelle vostre mani il destino della Francia era possibile impostare la difesa sulle diminuite capacità psichiche del maresciallo in considerazione dell'età avanzata sì all'inizio si pensò anche a questo l'avvocato Petain voleva imperniare tutta la difesa sostenendo che il maresciallo era molto vecchio e per dirla con una parola sola rammollito e io non ho voluto accettare mi sono recato dal maresciallo e gli ho detto signor maresciallo bisogna che lei sia un vero capo di stato un monarca lui si è buttato nelle mie braccia molto commosso dicendo non so cosa sia la giustizia da quel momento ho assunto io la responsabilità della sua difesa e l'ho imperniata come si è visto la Francia che si apprestava a giudicare Petain era quella nata dal movimento della Francia libera del generale de Gaulle e dalle formazioni clandestine mentre a Vichy l'asservimento ai nazisti era diventato più grave di mese in mese il movimento clandestino aveva organizzato un fronte interno che diede un contributo notevole alla vittoria degli alleati dopo la liberazione le autorità della Francia libera vollero che le responsabilità del governo di Vichy fossero giudicate attraverso regolari processi il generale de Gaulle prima autorità della nuova repubblica capì che il primo di questi processi non poteva non essere quello a Philippe Petain anche se la figura di un vegliardo troppo famoso sul banco degli imputati poteva riaccendere recenti passioni in una Francia ancora divisa per questo secondo le tesi di alcuni storici de Gaulle avrebbe preferito che Petain fosse giudicato in cortumacia al momento della liberazione Petain si trovava sotto sorveglianza dei tedeschi a Sigmaringen in Germania vi era stato trasferito nell'agosto del 44 dopo i suoi tentativi di trattare la resa di Vichy con gli alleati ed è qui che il 5 aprile del 45 apprese dalla radio che si stava preparando a Parigi un processo contro di lui decise allora di rientrare in patria sono le 4 del mattino il campanello annuncia l'ingresso della corte in aula per la lettura della sentenza avevo preparato il maresciallo Petain alla condanna a morte affinché non ne fosse emozionato l'alta corte si è ritirata per deliberare verso le 9 di sera e ha reso il suo verdetto alle 4 del mattino ha dunque discusso per circa 8 ore quindi il maresciallo è rientrato davanti l'alta corte e il presidente ha letto la sentenza la lettura fu molto lunga e siccome il presidente era distante dal maresciallo il maresciallo non lo poteva sentire ma io gli ho detto all'orecchio è stato condannato a morte l'alta corte di giustizia dopo aver deliberato condanna Philippe Tain alla pena di morte all'infamia nazionale alla conquista dei beni ma tenuto conto della vastata età dell'accusato l'alta corte di giustizia esprime il desiderio che la condanna a morte non si è eseguita la condanna a morte venne quindi commutata in condanna all'ergastolo dal carcere di Portalee dove rimase tre mesi Tain viene trasferita all'Ile-Dieu un'isola dell'Atlantico a largo della costa della Vandea le settimane di carcere diventano anni intanto i suoi difensori tentano di gettare le basi per una revisione del processo senza però riuscirne il 23 luglio 1951 Tain muore all'età di 94 anni viene sepolto nell'isola di Ieu la sua fine ha provocato sentimenti contraddittori ma una comprensione umana della sua tragica vicenda non può tuttavia modificare il giudizio storico non può annullare quello che Tain e la sua politica hanno rappresentato per la storia della Francia e dell'Europa dal 1940 al 1944 ma il modello narrativo con cui la Cavani mette in scena Petain e il processo a Petain è ormai un classico ci siamo abituati ci sono le immagini di repertorio ci sono i testimoni eccellenti e ci sono gli storici tra i testimoni tra l'altro voglio segnalare in questo caso la testimonianza del generale Vaigan che morirà poco dopo la messa in onda del programma e che fu un personaggio fu un protagonista della vita di vicino il ministro della difesa insomma fu uno dei pilastri del governo collaborazionista anche se su posizioni che non potevano essere assimilate totalmente a quelle di Petain resta il fatto però che al processo si schierò totalmente dalla parte di Petain e quello che la novità su cui volevo farvi riflettere è proprio il processo come meccanismo narrativo perché il processo nella sua nel suo alternarsi tra difesa e accusa ha un impianto profondamente teatrale quindi da questo punto di vista estremamente affascinante quindi il processo è una dei format narrativi più efficaci per poter raccontare la storia e la Cavani mi sembra totalmente consapevole da questo punto di vista quindi quello che ne deriva dalla contraposizione tra accuse e difesa penso alle testimonianze di Renaud che fu Paul Renaud che fu l'ultimo primo ministro prima di Petain della Repubblica Francese prima del Rezio Tedeschi e dall'altra parte l'avvocato Isorni l'avvocato difensore di Petain ecco questo il contraddittorio tra i due ripropone è qualcosa di più che un dibattito processuale come se fosse il confronto tra due Franze delle Franze di sempre le Franze che erano la Francia che era contro Dreyfus e la Francia che era fuori di Dreyfus quella che i francesi chiamano le fadi le rotture della loro storia che in quel caso lì nel caso di Vichy fu particolarmente drammatica e fu particolarmente evidente il processo comunque servì dal punto di vista storiografico a legittimare quella che ho già sottolineato come fosse l'interpretazione tipica di Charles de Gaulle cioè Petain non faceva parte della storia della Francia il processo doveva certificare che la resa dei tedeschi il collaborazionismo con i tedeschi andavano espunti dalla storia francese e la condanna di Petain doveva essere in qualche modo la certificazione giudiziaria di questa realtà stereografica in realtà è una tesi che lascia molto perplessi pensate soltanto al groviglio cronologico che Petain ci suggerisce che la vicenda di Petain ci suggerisce e Petain diventa primo ministro della Repubblica Francese succedendo appunto a Paul Renaud il 16 giugno del 1940 mentre la data della firma dell'armistizio con i tedeschi è del 22 giugno del 1940 la data della resa della Francia ai tedeschi che è l'atto che gli viene imputato e poi però la Repubblica dei Vichy nasce ufficialmente il 10 luglio del 1940 quindi quando Petain firma la resa è totalmente e legittimamente Presidente del Consiglio della Repubblica Francesca Francese in carica ma questo nel 1945 non si poteva dire recentemente è stata creata una campagna perché la salma di Petain venisse trasferita al cimitero degli eroi di Verdun tale richiesta tende ovviamente a creare nell'opinione pubblica i presupposti per una riabilitazione del marsciallo e il rilancio di vecchi fantasmi ideologici ma contro questi tentativi ambigui si sono schierate ancora una volta le forze antifasciste rappresentate dagli uomini della resistenza per loro il caso Petain è chiuso e non poteva chiudersi altrimenti posso dirle subito che dal punto di vista della resistenza francese l'unanimità è raggiunta non c'è un caso Petain non si vuole più sentirne parlare e il trasferimento della salma che per i petainisti sarebbe una riabilitazione non ci sarà finché esisteremo noi mio padre ha presieduto l'alta corte di giustizia per molti anni e ha giudicato praticamente tutti i ministri di Petain ma non ha giudicato Petain e Laval perché era un magistrato di professione non un deputato ed era un deputato che presiedeva ma ha voluto anche lui rifare il processo Petain e ha scritto un libro un libro voluminoso che ho qui e che si intitola il vero processo del maresciallo Petain cioè mio padre applicando a quel processo il metodo che aveva applicato in tutti gli altri che aveva presieduto ha ripreso punto per punto tutti gli atti tutte le imputazioni contenute nell'atto di accusa e tutti gli aspetti della pratica su due o tre punti di dettaglio egli ha pensato che si poteva forse esonerare Petain da questa o quella responsabilità ma nell'insieme in quello che è più importante la sua conclusione è del tutto simile a quella dei giurati del processo Petain Petain maresciallo di Francia era un traditore e come tale è stato giustamente condannato questo che è l'ottavo lavoro che lei fa per la RAI ottiene addirittura il leone d'oro alla mostra di Venezia del 1965 oltre a un milione centomila spettatori sul secondo canale prima serata gradimento del 70% voglio dire io torno ancora però a Buzzolan perché a un certo punto però proprio vedendo questo montaggio dice Buzzolan speriamo che questa abilità Liliana Cavani possa un giorno usarla per un lungometraggio e siccome Petain in realtà cronologicamente è l'ultimo suo documentario ci aveva azzeccato Buzzolan cioè stava per arrivare Francesco non lo sapeva lui secondo me mentre lei faceva Petain non lo sapeva lei però l'aveva azzeccata io lo sapevo perché io lo sapevo perché stavo vince il leone d'oro a Venezia io non ci vado stavo lì sulla delba così cioè lei non è andata a ritirare il primo leone che ha proseguito no perché stavo lavorando a una revisione della sceneggiatura del Francesco che avrei cominciato a girare in novembre e quindi non avevo tempo di andare a ritirare la testa non avevo nessuna voglia di stare a bloccare eccetera di andare a Venezia che poi è scomodissimo dall'isola andare a Venezia e invece perché lavoravo tutte le mattine su questo copione però voglio farle come dire una domanda come dire più personale ma come sta maturando l'idea di fare un altro mestiere di diventare di avere degli attori una sceneggiatura un progetto di film cosa sta sta cambiando qualcosa in lei no in me no c'è questo desiderio di fare un film su Francesco e me ne sto occupando già fin da allora quindi lei non intuisce che è un nuovo mestiere è il seguito di quello che sta già facendo no non faccio questa riflessione perché avevo fatto già due filmini per la al centro sperimentale con gli attori anche se ah già è vero è vero e quindi per me era un lavoro normale era un lavoro normale non era io avevo fatto il centro sperimentale per fare quello però mi è piaciuto anche tutto quello che ho fatto prima cioè è venuto in continuità sì è venuto in continuità però abbiamo fatto una strana operazione in realtà prima di questi tre documentari storici ce n'è un altro di attualità che si chiama Gesù mio fratello in realtà abbiamo voluto porlo prima di Francesco perché a me pare a noi pare che le suggestioni che ci sono in questo racconto di Gesù mio fratello sono quelle che precedono in qualche modo Francesco è un ritorno però all'attualità perché nel 1965 lei racconta questo strano ordine monacale e lavoratore insieme no? che sono i piccoli fratelli di Gesù lei li racconta inseguendoli in giro per il mondo lungo diciamo tutti i continenti mi viene da dire e proprio nel 1965 lo vedremo nella prossima puntata però stateci attenti perché seguiteci perché è in qualche modo l'annuncio di quel che sarà il Francesco che verrà naturalmente tutto il materiale che stiamo raccontando in queste puntate è disponibile su Rimeplay potete rivedervelo lì io ringrazio Eliana Cavani e la prossima puntata sarà veramente interessante vediamo un po' Grazie a tutti.